Quando ero piccola ricordo che le aspirazioni di carriera artistica per noi fanciulli erano mediamente fare il calciatore e la velina. Ma oggi i giorni e i tempi sono cambiati e credo che i giovani di oggi aspirino più che altro a fare cose tipo gli influencer o i gamer. E proprio quest'ultima passione, perché chiamarla lavoro? Non ce la faccio, mi sa che sono troppo vecchia, è alla base dell'anime No Game No Life. Un mondo dove per conquistare terre e potere non servono guerre o combattimenti, ma solo essere bravi ai giochi. Ma soprattutto una scusa per ficcare fanservice ovunque, una camionata di fanservice. E come al solito vi ricordo che se vi piace la maglietta che indosso la trovate sul sito di Pampling qui sotto nell'info box. Non dimenticate il codice sconto. I fratelli Sora e Shiro sono due assi dei videogiochi, conosciuti col nome di... No, seriamente lasciano uno spazio vuoto nel nome del tag e basta. Essi sono incapaci di perdere e possono sbaragliare gli avversari in ogni avventura videoludica, dal Tetrix a Dark Souls. Proprio come me, che per esempio all'inizio di Fallout 4 ero così schillata che mi uccidevano le mosche giganti. Le mosche. I due però non hanno legami di sangue, in quanto la famiglia di Sora adottò la ragazzina dopo che lei rimase orfana da appena un anno. Così gli autori hanno potuto inserire scene assolutamente non ambigue tra i due senza far sentire ogni spettatore del pubblico brighella dentro. Oh dai, perché ti devi mettere in sta posizione da gatta morta? C'hai 11 anni, non c'hai tipo il cioè da leggere? Il ragazzo ha intuizioni più astute del Detective Conan, mentre la ragazza ha una capacità di previsione e di calcolo da fare invidia a tutti quelli che contano ancora con le dita. Perché nessuno da grande lo fa più, vero? Vero? Sì sì, sì. I due sono fondamentalmente degli Ikikomori, abbiamo già visto questa figura nell'anime di Re Zero, e sono ovviamente due tipi super cool. Anziché dei tizi più plausibilmente che vivono costantemente col pigiamone dei Pokémon e una panza di chi non fa nemmeno i gradini dell'ingresso. Un giorno ricevono una mail che li sfida una partita a scacchi, e dopo aver vinto, seppur non senza qualche difficoltà, lo sfidante gli domanda la loro opinione sul mondo reale. Alla risposta? Beh, è un gioco scadente, i due vengono teletrasportati in un'altra dimensione, chiamata Disbord. Mentre precipitano nel vuoto senza paracadute, i due conoscono il loro avversario, Tet, che si presenta come Dio, e spiega loro le regole del suo mondo. A regolare il tutto c'è un sacco di fanservice, con donne dai davanzali, dalle proporzioni inumane e scolature apocalittiche. In secondo luogo ci sono dieci comandamenti da lui scritti personalmente che vietano ogni qual forma di violenza. E per risolvere ogni questione si fa ricorso ai giochi, vige altresì il divieto di barare. Immagina la scena. Ehi tu, mi hai fregato la ragazza? Ah sì, vuoi combattere? Ok, il mio nick su PS4 è culo gatto 86. Svediamoci a Fortnite e vediamo chi è più adatto a Jessica. In questo mondo vi sono 16 razze, tra cui quella umana chiamata Imanity, che sono in fondo alla classifica globale in quanto Puppi da fare schifo, così i due protagonisti diventano la loro unica speranza. Ad accollarsi al duo c'è Stefani, nipote del sovrano di Elkia del regno di Imanity. Una che a stento so giocare a sasso carta forbici, Lizard Spock. Sora e Shiro decidono così di aiutare il popolo dei Puppi videoludici a riconquistare le terre perdute. Sconfiggendo per prima cosa Kura Mizel, l'ultima pretendente al trono, sfidandola una partita a scacchi. Che di scacchi ha praticamente nulla perché sembra un frontale tra gli scacchi magici di Harry Potter e un incontro di wrestling. Dopo la vittoria, i due vengono incoronati re e regina di Elkia. Ed in seguito sfidano Jibril, un essere dall'aspetto angelico che sbava come un rubinetto rotto, riprendendosi da lei la biblioteca reale e ottenendone altresì la fedeltà. Tocca poi ai Werebeast per non farci mancare nemmeno l'elemento Furry, dopo le Baby Lolita e le tettonanze fintoangeliche. Ma essi non sono facili da battere, durante il partitone addirittura Sora sparisce per qualche tempo e nessuno sembra più ricordarsi di lui. Perché stava giocando tipo una partita mistica con Impalion la sua stessa esistenza e Maremma Santa se sale l'ansia. La partita è ardua anche perché è più truccata del televoto di Sanremo, ma i due fratelli riescono infine ad uscirne i vincitori ed uniscono i territori di Imanity e dei Werebeast. Sperando un giorno di riuscire a sfidare Tet per il ruolo di Dio. Ma alla fine di tutto, la cosa più incredibile di questa serie è il cellulare di Sora. Dà la batteria pressoché interminabile e in grado di prendere il segnale addirittura in un'altra dimensione. Anvedi. Benvenuti a Indopoli, il mondo di Indie. Qui è vietata ogni qualsivoglia forma di violenza e qualunque cosa va risolta giocando con tutto quello che capita a tiro. È la dura vita del mondo felino. Già, non puoi lasciare niente in giro quando c'è il gatto. Niente.